Ciao a tutti ragazzi sono ZGovie e oggi sono qui in questo nuovo video su GTA 5 su... cioè... single player sto facendo questo video perchè sono abbastanza incazzato se vuol dire perchè... non so se avete notato ma... io ero a 99 iscritti e ho detto ah ora arrivo a 100 iscritti e arrivo finalmente che bella cosa e un giorno, non mi ricordo quando l'altro ieri, ho detto... mi sono svegliato e ho detto ricarichiamo la pagina così vediamo se sono a 100 iscritti ho aggiornato la pagina ed eravamo a 98 ho detto va vabbè ci sta un 10 iscritti così mi è piaciuto il canale di questi iscritti e ho detto vabbè poi dopo mi è arrivato un commento degli iscritti ricambi ho accettato e lui mi ha detto che sei iscritto questa persona non mi ricordo chi è dopo... dopo qualche minuto ho aggiornato la pagina ma non ero... ho detto ora sono a 99 ma non ero a 99 ero a 97 e ho detto ma c'è qualcosa di strano non lo so... e ho detto vabbè poi un tanto è passata la giornata e giorno dopo ho aggiornato la pagina ed ero a 96 ero... e perciò questa cosa degli... di youtube che toglie gli iscritti è vera perchè ho perso 3 iscritti in un solo giorno... e proprio poi quando me l'ha fatta youtube me l'ha fatta proprio quando dovevo arrivare a 100 iscritti perciò... sono abbastanza ingazzato per questo sono... e quindi... non lo so... e tolto gli iscritti così... senza un motivo valido... cioè... ci sono rimasto di merda proprio a dire la verità... sinceramente mi ha fatto passare anche la voglia di fare video... perciò... non dico che non farò più video però... fino a quando non... non vedo gli iscritti... almeno... una volta gli iscritti che... cioè... da 96 passiamo a 97... vi comincerò... cioè... perchè... sinceramente mi ha fatto passare la voglia... mi ha fatto passare... e quindi... che poi... fino a due minuti fa... un'altra persona mi ha fatto iscritto ricambio... ho accettato... e credo che sia iscritti perchè mi sembrava... una brava persona... cioè... che ricambia... cioè... che non prende per il culo va... l'iscritto non è salito... non so che cazzo è successo però... l'iscritto non... gli iscritti non salvano... al massimo scendono... e io già sono sicuro che fra qualche minuto... al giorno la pagina sarà 95... non... non credo nemmai che gli iscritti... cioè... 3-4 iscritti... ci se ne vanno così... senza... di colpo... vabbè... perciò... fino a quando non... salvo a meno di un iscritto... non... non farò più video... cioè... almeno non porterò un video a settimana come faccio... adesso... mi dispiace ma... mi ha fatto passare la voglia... mi ha fatto passare... è andato qui Michael... che si sfrapiella nel muro... va bene ragazzi... spero di portare al presto un video... e di... di continuare questa... questa avventura su YouTube... e noi ci vediamo al prossimo video... quando sarà... c'è tutti ragazzi... qui... 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 qui...